La laurea di marzo del corso di laurea in scienza e tecnologia navigazione. Oggi abbiamo quattro laureandi e procederemo in ordine alfabetico. Quindi il primo laureando è Borgosano Gabriele Paolo Antonio che presenta una tesi dal titolo Studio teorico-sperimentale Impianti motori aeronautici. Il relatore, il professor Brusca Sebastian, lascio a lui la parola per dare una breve introduzione dell'elaborato di laurea. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Gabriele ha fatto un interessante studio su una tecnologia che oggi è ancora quasi un tabù per l'applicazione aeronautica ma è diventata già una realtà per gli altri impianti di propulsione sia terrestri che navali. Però sempre più sforzi vengono fatti in questa direzione per far sì che anche la propulsione aeronautica sia elettrificata o ibridizzata. Lascio però a lui il compito di descrivere il suo lavoro di tesi. Buon pomeriggio a tutti. Volevo anzitutto ringraziare il professore Vincenzo Gruvi e il mio relatore, il professore Sebastian Brusca. Dunque, studio teorico-sperimentale di impianti motori aeronautici è il titolo della mia tesi. Bene, un problema assai critico, tutt'oggi oggetto di studi scientifici volti a contrastarlo, è il problema dell'inquinamento atmosferico, definito come qualsiasi alterazione dell'aria atmosferica dovuta dal rilascio sia naturale che antropico di sostanze inquinanti nell'aria. Tutte queste alterazioni hanno delle conseguenze assai negative sulla salute del nostro pianeta. Tra le principali fonti antropiche di inquinamento atmosferico, una fra le più dannose per la Terra è rappresentata dai motori degli aeromobili, i quali rilasciano nell'atmosfera ossidi di azoto, nitrite carboniche e polveri sottili. Ovviamente le emissioni di un aeromobile dipenderanno dalla lunghezza del tragitto compiuto dal peso del mezzo e dalla tipologia di motori aeronautici supportati. Come possiamo leggere dalla seguente slide, in media un aereo di linea genera sull'atmosfera gli stessi effetti inquinanti di circa 600 automobili non catalizzate. Questo purtroppo è un gravissimo campanello d'allarme per la salute del nostro pianeta. Tra i principali motori aeronautici più utilizzati nell'aviazione bisogna ricordare il motore turboventola costituito da una turbina a gas aeronautica collegata ad una ventola, la quale ha la funzione di incrementare la spinta generata attraverso l'accelerazione del flusso d'aria in ingresso. I motori turboventola, così come tutti i motori a combustione interna, inquinano l'aria. Dunque, al fine di combattere sempre di più il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, la maggior parte degli stati del mondo ha trovato un compromesso, progettando, costruendo e implementando sistemi di propulsione ibridi ed elettrici, come quello raffigurato nella seguente slide, per il quale una serie di turboalternatori o dieselalternatori forniscono energia elettrica a dei motori elettrici collegati a delle eliche navali. Questo permette sicuramente di rilasciare nell'atmosfera un quantitativo molto minore di sostanze inquinanti rispetto ai sistemi puramente termici. Bisogna ricordare poi che il propulsore di questo impianto di propulsione prende il nome di Azipod. Per quanto riguarda l'aviazione, poi sono solo prototipi al giorno d'oggi gli aeromobili elettrici, uno fra i quali è il Lilium Jet, un piccolo VTOL, ossia un mezzo capace di muoversi sia in senso verticale che orizzontale, dotato di ben 36 turbine a funzionamento completamente elettrico. Degno di nota è anche un particolare sistema di propulsione ibrido sviluppato dal MIT, molto simile tra l'altro al sistema Azipod visto in precedenza, nel quale due turboalternatori forniscono energia elettrica a dei motori elettrici collegati a delle ventole propulsive. Lo scopo della presente tesi è quello di misurare la spinta generata da un motore turboventola in scala completamente elettrico. Per la misura sono state scelte due metodologie, mediante masse calibrate la prima, mediante una cella di carico in laboratorio la seconda. In questo slide è invece possibile osservare il setup di misura mediante le masse calibrate, il quale ha consentito appunto di ricavare la spinta generata dal motore attraverso la misura appunto della forza peso di opportune masse che hanno controbilanciato la spinta stessa. Nel seguente video è poi possibile osservare la procedura di misura sperimentale in laboratorio di spinta mediante la cella di carico, osservabile di seguito. Questo invece rappresenta il sistema di alimentazione del motore. Bene, i risultati sperimentali di spinta ottenuti in laboratorio rapportati alla velocità media di rotazione del motore hanno consentito di costruire il seguente grafico. Il laboratorio poi è stato possibile anche misurare la velocità di rotazione del motore riportata nei seguenti grafici. È stata misurata poi anche la potenza elettrica di alimentazione che come si può osservare presenta un andamento parabolico, la coppia generata dal motore che ha un andamento pressoché la velocità lineare e il consumo specifico di energia. Sempre in laboratorio poi, come si può osservare dal video, sono stati studiati i vettori velocità istantanea che caratterizzano il modo di un flusso di vapore che attraversa il motore. Flusso più facilmente osservabile dal seguente video. Dunque, questo studio sperimentale è stato condotto seguendo una particolare tecnica di misurazione che prende il nome di tecnica PIV, in inglese Particle Image Velocimetry, appunto una tecnica che consente di determinare modulo, direzione e verso dei vettori velocità istantanea che caratterizzano appunto il flusso di vapore. Bene, concludendo, in questa mia tesi ho studiato i motori aeronautici elettrici, ho sviluppato un setup sperimentale di misura di spinta e di consumo di energia, ho studiato il campo di moto del flusso di vapore e più in generale, diciamo, il mio studio è la base di partenza per l'applicazione di questo tipo di motori turbofan elettrici per un impiego sia aeronautico che relativo all'aeromodellismo. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti per il lavoro svolto. C'erano domande da parte della Commissione? Va bene, allora procediamo con la seconda candidata, Cambria Laura, che presenta una tesi dal titolo L'importanza del trasporto marittimo nella Belt and Road Initiative, relatore e professore di Gangi. Lascio a lui la parola. Ok, grazie. C'è da disconnettere un attimo la connessione del candidato precedente, perché è capito spunto al... No, 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 no. La Belt and Road Initiative è chiamata anche Nuova Via della Seta, è un insieme di infrastrutture che la Cina sta realizzando per connettersi col continente europeo. e queste infrastrutture sono sia terrestri che marittime e la candidata ha approfondito tutto ciò che riguarda il trasporto marittimo, le infrastrutture marittime che sono convolte in questa B.R.I., cioè Belt and Road Initiative. Non dico più niente, perché adesso ce lo racconterà lei, così non traggo tempo alla sua esposizione. Sì, ringrazio il professore Grupi e anche il professore Di Gangi per l'introduzione. Allora, la tesi si basa appunto sull'analisi della strategia cinese sui mari, nel contesto della Belt and Road Initiative. La Belt and Road Initiative, acronimo BRI, è un'iniziativa inaugurata dal presidente Xi Jinping nel 2013 come il più grande progetto infrastrutturale che mira a collegare la Cina al resto del mondo attraverso un insieme di rotti commerciali marittime e terrestri. Da 2013 ad oggi questa iniziativa è diventata il perno della politica estera cinese, una sorta di passepartout attraverso cui la Cina dialoga, commercio e investe con gli altri paesi e inoltre mira ad aumentare gli scambi e aumentare quindi l'accesso al mercato in regioni anche complesse. Le rotte partendo dalla Cina corrono attraverso la Russia, l'Asia Centrale e Medio Oriente passando per l'Oceano Indiano, toccando l'Africa e per poi giungere in Europa e in Italia in particolare a Venezia come appunto rappresentato in figura. Questo sistema infrastrutturale permette di sfruttare pienamente l'entroterra euroasiatico osservendosi di un insieme di reti ferroviarie, oleodotte e infrastrutture che si snota attraverso paesi strategicamente e geopoliticamente rilevanti per le loro ricchezze di materie prime come ad esempio il Pakistan, l'Afghanistan e la Birmania e per raggiungere poi paesi dell'est europeo come l'Ungheria, la Serbia e la Polonia. La rete commerciale marittima invece coinvolge tutti i più importanti porti cinesi toccando i principali scali e sud-est asiatico e passando poi per l'Oceano Indiano e raggiungendo i principali porti europei grazie all'allargamento del canale di Suez avvenuto nel 2015. Ad oggi possiamo considerare oltre 140 paesi che sono membri dell'iniziativa ovvero il 60% della popolazione mondiale. Il senso della Cina di agire via mare sta nel fatto che la Cina realizza l'80% degli scambi con il mondo appunto via mare. Alcune scuole di studio dei fenomeni internazionali hanno utilizzato due differenti teorie per descrivere la strategia cinese sui mari. La prima si riferisce alla dipendenza energetica cinese e invece la seconda è la teoria del filo di perle che venne utilizzata per la prima volta nel 2004 dal Dipartimento della Difesa americano. Per quanto riguarda la prima teoria è legata al forte sviluppo economico della Cina che ha portato a un aumento della domanda energetica del paese che interessa principalmente petrolio e gas naturale e di cui l'80% proviene appunto via mare. Proprio per questo la Cina sta cercando di assicurare un efficace sistema di approvvigionamento di energia e si sta impegnando in un nuovo progetto di proiezione marittima oltre i propri confini sia per andare alla ricerca di nuove fonti energetiche e sia per difendere i propri commerci e le proprie navi transitanti sulle rotte internazionali. Secondo la teoria del filo di perle invece la Cina sta cercando di stabilire una serie di basi navali con sede nell'oceano indiano e ciò gli consentirà di stazionare le navi e sorvegliare anche le rotte marittime che appunto attraversano la regione. Con gli investimenti portuali nell'ambito della BRI sono ben visibili i vantaggi militari strategici e anche economici. Ad esempio il porto pakistano presenta degli indubbi vantaggi logistici a partire dalla sua prossimità nei confronti dello stretto di Ormuz che renderebbe meno competitivi i porti di Dubai e porti iraniani. Un altro destinatario degli investimenti cinesi è il porto di Ambantota in Sri Lanka con un investimento da un miliardo di dollari dedicati all'area portuale stessa e allo sviluppo dell'entroterra e anche di nuove aree industriali. Un altro sviluppo cinese nell'oceano indiano è il porto di Djibouti perché Djibouti resta un passaggio obbligato per qualsiasi nave che voglia aggiungere nel Mediterraneo transitando attraverso il canale di Suez oppure anche proseguendo in direzione dei porti europei o statunitensi. Con l'acquisizione del porto di Djibouti la Cina ha indirettamente dichiarato di essere interessata a controllare tutti i principali choke points dell'oceano indiano. I choke points rappresentano un passaggio obbligatorio delle rotte commerciali mondiali di fatti attraverso di essi transita più della metà del trasporto mondiale di petrolio e gas naturale. Ovviamente una parte degli investimenti sono stati dedicati anche in Cina infatti la Cina vanta il più grande porto mercantile completamente automatizzato che può movimentare 4 milioni di teo l'anno. Si tratta appunto del porto di Yangshang a sud di Shanghai che mira ad essere appunto il più veloce, il più moderno e soprattutto il più affidabile. L'automazione comprende il carico e scarico delle navi e il trasferimento dei container in altri mezzi di trasporto ma anche per i controlli docanali. Inoltre l'automazione ha aiutato anche l'azienda a risparmiare circa il 70% sulla manodopera ed ha anche ridotto del 10% le emissioni di CO2. Una volta caricata la nave dal porto di Yangshang questa attraverserà il mare cinese meridionale e lo stretto di Malacca passando per la Malesia attraversando l'oceano indiano e arrivando in Sri Lanka e entrando così nel Mediterraneo attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez. Tuttavia la rotta artica con lo scioglimento dei ghiacci causato dal surriscaldamento globale apre nuovi scenari sul fronte del collegamento e degli affari perché la Cina che è il paese da cui partono la maggior parte delle merci la rotta artica rispetto alla rotta Suez potrebbe diminuire i tempi di percorrenza di circa il 30% però questo a partire dal 2040. Nel contesto della BRI le zone economiche speciali assumono una certa importanza di fatti l'interesse della Cina si sposta verso queste zone per via delle agevolazioni a cui va incontro tra cui agevolazioni fiscali, doganali e anche per l'acquisto di terreni. La mancanza di queste zone comporta quindi la perdita di questi investimenti che sono fondamentali per lo sviluppo perché secondo alcune valutazioni nel Mediterraneo con una visione di medio-lungo termine le zone economiche speciali riescono ad aumentare l'exporto di un territorio del 4% medio-anno e del traffico portuale container dell'8% medio-anno e purtroppo i nostri porti negli ultimi dieci anni sono cresciuti soltanto dell'1%. Un altro aspetto su cui si basano gli investimenti cinesi è la posizione geografica dei porti e anche il loro approccio di funzionalità. In questo contesto, grazie ai mastici investimenti infrastrutturali i porti del mare del nord, tra cui Rotterdam, Anversa e Hamburgo sono riusciti ad imporsi come protagonisti all'interno del mercato portuale europeo. Stavvia però la crescita di importanza dei maggiori porti del nord Africa è evidente in alcuni casi, come ad esempio lo scaromarocchino Tangermed o Port Said che alle loro spalle hanno delle grandi free zone. Queste grandi free zone offrono una serie di elementi di contesto tra cui sconti fiscali, agevolazioni sul costo del lavoro e anche agevolazioni doganali che evidentemente i porti dal lato dell'Europa non sono in grado di offrire e quindi puntano a migliorare gli altri parametri come l'efficienza e la rapidità logistica. Inoltre l'emergere dei porti africani minaccia il traffico di alcuni hub importanti come ad esempio l'insieme dei porti del nord Adriatico, tra cui Venezia, Ravenna e Trieste. Infatti la possibilità da parte delle navi di attraccare il nord Adriatico fornirebbe un elemento di competizione con il traffico dei porti nel mare del nord anche perché la Cina realizza circa il 70% degli scambi con l'Italia via mare e quindi potrebbe essere un'occasione per promuovere il flusso inverso incrementando così l'esportazione dall'Italia verso la Cina. Oggi a seguito della pandemia l'Italia ha sviluppato il piano nazionale di ripresa e resilienza con l'acronimo PNRR che è volta a rilanciare l'economia del paese anche esso attraverso degli investimenti. In questo contesto l'obiettivo è quello di sviluppare un sistema portuale competitivo su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione ai porti del sud Italia. Infatti bisogna anche considerare la possibilità all'interno dell'iniziativa di integrare i porti come ad esempio Gioia Tauro o Agusta perché ricordiamo che comunque Gioia Tauro è il primo scala italiano in materia di traffico di volume di container in Italia sesto nel Mediterraneo e non in Europa e questi porti anche se opportunamente supportati nell'ambito del PNRR potrebbero essere anche dei poli attrattori per gli scambi con l'Europa e non essere considerati soltanto come porti turistici. Grazie per l'attenzione. Complimenti per l'interessante presentazione. Ci sono domande da parte della Commissione? Sì, io non avevo una domanda in realtà, se posso intervenire, vero? Certo. Ma solo così un'osservazione perché la presentazione interessante della candidata mi ha fatto pensare all'incidente di ieri nello stretto di Suez che ha comportato il blocco. Come? Ha bloccato per 24 ore il traffico. Ha bloccato per qualche ora, per circa 24 ore il traffico e leggevo dalla stampa di 400 milioni di dollari di danno orario stimato. Quindi, insomma, queste tematiche sono assolutamente di grandissimo interesse. Laura, sconnetti un attimo le cose. Sì, fatto. Ecco. No, ma c'era anche un'altra cosa da dire che lei l'ha accennato, giusto, brevemente perché la cosa è un po' polemica perché nella versione vecchia del PNR c'era messo che i porti del sud d'Italia erano dei porti a vocazione turistica. Cioè, Gioia d'Auro lo consideriamo a vocazione turistica. Quindi tutte le risorse messe nei porti di Genova e Trieste. Mentre noi abbiamo Santa Panagia, abbiamo Augusta che è un porto impressionante se è riqualificato. Perfetto. Allora, se non ci sono altre osservazioni passerei al terzo candidato Ciraolo Davide che ha svolto una tesi al titolo Disegno 3D e sviluppo fasciame di una nave partendo dai piani di costruzione. Il relatore è il professor Eugenio Guglielmino che oggi non ha potuto partecipare a questa sessione quindi introduce la tesi il professor Cucinotta lascio a lui la parola. Sì, il candidato Ciraolo oggi presenta il suo lavoro di tesi che è stato un lavoro che lo ha visto impegnato nel disegno dei disegni classici quelli da cui si parte nella costruzione di una nave ovvero il piano di costruzione e lo sviluppo fasciame partendo da una nave trovata in disponibilità in letteratura ha ricostruito dal computer ha fatto i passaggi quelli da studio tecnico per disegnare la nave stessa. Lascio al candidato Ciraolo di mostrare il suo lavoro. Buonasera a tutta la commissione ringrazio il professore Grubi e il professore Cucinotta per l'introduzione lo scopo della mia tesi di laurea è stato quello di illustrare tramite dei passaggi ben definiti la modellazione Ciraolo, scusami non si vede non si vede? devi condividere ok ok, perfetto come dicevo lo scopo della mia tesi di laurea è stato quello di modellare appunto uno scafo tramite un software di modellazione tridimensionale partendo da un piano di costruzione ovviamente il piano di costruzione di partenza deve essere correlato di dimensioni principali quale altezza, larghezza altezza di costruzione larghezza e lunghezza della nave e anche un'immersione di progetto poi sono stati eseguiti i calcoli idrostatici e infine è stato rappresentato lo sviluppo fasciame tramite AutoCAD riguardo Delfship Delfship è un programma di modellazione digitale che ci permette la rappresentazione di scafi dei particolari navali e inoltre è capace anche di comprendere eventuali criticità presenti nello scafo la rappresentazione del modello è partita suddividendo il piano di costruzione di partenza in piano longitudinale e piano trasversale successivamente è stata centrata l'immagine rispetto ai punti di riferimento del sistema cartesiano ha segnato una scala di disegno e poi sono passate alla creazione dei punti di controllo delle ordinate le ordinate sono state create cercando i punti di intersezione nel piano trasversale tra la linea d'acqua e l'ordinata designata e successivamente è stato assegnato un valore longitudinale per le ordinate di poppa quindi quelle appunto visibili nel piano trasversale a sinistra del sistema di riferimento di Delfship è stato necessario intervenire a livello numerico in quanto venivano generati sulla sinistra con un valore negativo una volta terminato tutta la rappresentazione delle ordinate si può notare un reticolo dei punti di controllo questo reticolo dei punti di controllo servirà appunto per creare la superficie la superficie è stata creata selezionando a gruppi di tre punti di controllo nelle zone di curvatura più rilevante per poi assegnare una superficie mentre invece nella zona centrale è stato necessario prenderne quattro per velocizzare appunto il lavoro di rappresentazione riguardo invece l'appendice presente a poppa della nave Delfship permette a disposizione un editor di appendici il quale ci permette di creare qualsiasi tipo di appendice a partire da dimoni anche a letta antirollio e derive una volta creata l'appendice l'ho unita al modello creando un'intersezione tra i due piani stesso procedimento è stato utilizzato per la creazione degli alloggi dei thrusters in questo caso ho creato dei corpi cilindrici orizzontali e poi ho sottratto il volume dei corpi cilindrici a quello del a quello del modello di partenza completato tutto lo svolgimento del modello tridimensionale sono passato alle analisi idrostatiche le quali mi hanno dato appunto informazioni riguardo il volume di carena il centro di carena il dislocamento della nave i vari coefficienti di finezza coordinata del metacentro e il valore dei momenti di inerzia infine il programma ha richiesto appunto di svolgere un report delle carene dritte appunto assegnando un valore di intervallo e un punto di partenza e un'immersione finale completato anche il report delle carene dritte il programma genera anche un grafico delle sezioni immerse trasversali una volta completate anche le analisi idrodinamiche sono passato alla modellazione con AutoCAD in questo caso ho derivato un piano di costruzione direttamente dal modello 3D il piano di costruzione generato ovviamente è stato corretto in quanto premio di linee superflua e indicazioni troppo invasive successivamente ho generato i layer per permettermi appunto di assegnare uno spessore secondo le normative uni infine ho creato un cartiglio e ho deciso di rappresentare il disegno in formato a zero ultimamente per l'ultimo passaggio poi sono appunto arrivato allo sviluppo fasciame lo sviluppo fasciame nel disegno navale è una rappresentazione dei corsi di fasciame del fasciame esterno appunto della nave la superficie dello scafo però non è editabile quindi cioè sviluppabile quindi sono ricorso a delle convenzioni per facilitare il processo di rappresentazione nella rappresentazione dello sviluppo fasciame ho iniziato tracciando la linea di costruzione e inserendo la posizione delle ordinate direttamente appunto dal modello ricavato da Delfship una volta posizionate le ordinate sono passato allo sviluppo prendendo in considerazione il piano trasversale e tramite il comando allunga presente di AutoCAD ho trovato le lunghezze delle ordinate sviluppate per quanto riguarda invece la zona di prua c'è stato un approccio particolare per poter rappresentare questa zona in quanto ho dovuto prendere la chiglia fino al punto di tangenza verticale del bulbo per poi sviluppare la parte superiore con la stessa metodologia con cui sono state sviluppate le ordinate una volta completato questo procedimento ho unito tutti gli estremi dei segmenti delle varie lunghezze appunto delle ordinate sviluppate tramite una linea spline per poi calcolare l'intervallo di ossatura e inserire informazioni riguardo alla traccia dei rinforzi trasversali grazie anche alle esperienze maturate in cantiere in fase di ruocinio ho scelto appunto per i corsi di fasciame della nave un acciaio H36 in base alla zona considerato ho assegnato uno spessore più o meno rilevante in particolare nelle zone più basse dello scafo ho inserito uno spessore più significativo mentre salendo verso murata ho deciso di assottigliare i corsi di fasciame le laniere sono state poste con lembi e testi affiancati e un iditon cordone di saldatura in conclusione grazie appunto alla possibilità che ci dà il programma di eseguire i calcoli idrostatici ho appurato che il modello è stato eseguito correttamente quindi si poteva notare una volta completato l'assenza di punti di perdita inoltre ho notato che il coefficiente di finezza fornito dalle analisi idrostatiche si trovava in un valore di 0,63 circa quindi compreso tra 0,60 e 0,65 il quale ci indica appunto il valore numerico di un coefficiente di finezza appartenente a un rimorchiatore difatti il piano di costruzione è stato proprio prelevato da un rimorchiatore di grosso taglio in particolare una nave ancio-rendling chiamata Varazze la rappresentazione dello sviluppo fasciame invece è stata molto più problematica in quanto il posizionamento dei rinforzi è stato diciamo difficoltoso e quindi sono stato costretto ad omettere per mancanza di informazioni il posizionamento di alcuni rinforzi trasversali per completare appunto il sviluppo fasciame avrei avuto bisogno di un piano di ferri o altri dati riguardanti la struttura completa con questo concludo e ringrazio i presenti per l'attenzione complimenti per il lavoro svolto grazie ci sono domande da parte prego ci sono domande da parte della commissione nel frattempo chiedo anche a lei di collegare il video va bene allora se non ci sono domande da parte della commissione passerei al prossimo candidato Giacopello Peter che presenta una testa dal titolo studio delle condizioni meteorologiche osservate dello stretto di Messina relatore professor Castagno Pasquale lascio a lui la parola per una breve presentazione buonasera a tutti allora il candidato si è occupato di studiare principalmente la climatologia dello stretto di Messina in particolare ha utilizzato serie storiche di temperatura vento e precipitazione che sono state misurate dalla stazione meteorologica di Messina negli ultimi 50 anni cioè a dire naturalmente queste osservazioni sono molto importanti perché ci danno la possibilità di comprendere quale può essere poi l'evoluzione futura delle condizioni meteorologiche nello stretto di Messina però lascio la parola al Peter per il seguito grazie mille professore allora il titolo della mia tesi è studio delle condizioni meteorologiche osservate nello stretto di Messina l'area di studio appunto è proprio lo stretto di Messina e la stazione meteorologica che è posta 54 metri sul livello del mare la stazione entrò in funzione nel 1881 ed era destinata per osservazioni astronomiche e geodinamiche ogni ora appunto viene messo un bollettino che descrive i dati acquisiti negli ultimi dieci minuti del tempo presente e dei fenomeni osservati nelle ore precedenti ovvero il tempo passato gli strumenti meteorologici a disposizione della stazione meteorologica di Messina sono molteplici alcuni ubicati all'interno della capannina meteorologica che è posta all'esterno ci sono appunto termoicrografi c'è un termoicrografo in grado di misurare contemporaneamente temperatura e umidità abbiamo un termometro di massima e uno di minima giornalieri e un psicometro che è in grado di misurare l'umidità relativa andando avanti troviamo un complesso pluviometrico in grado di rilevare la precipitazione in termini di millimetri ci serviamo appunto della cabina pluviometrica del trasmettitore che appunto trasmetterà segnali elettronici al pluviografo che andrà a registrare su una bombina diagrammata successivamente troviamo la pressione atmosferica che viene resa nota attraverso il barometro che dà una misura istantanea della pressione atmosferica colonnare e il barografo che non fa altro che registrare questa pressione atmosferica su un diagramma appunto successivamente troviamo la misurazione dei venti che la si fa attraverso un anemometro che contiene una banderuola e delle coppette di Robinson che sono opportunamente collegate all'anemografo che è in grado di registrare su detta velocità media su dieci minuti il valore di direzione del vento espresso in gradi e le raffiche maggiore di dieci nodi per quanto riguarda invece i fenomeni che localmente possiamo vedere sullo stretto di Messina abbiamo la lupa che si verifica nel periodo primaverile e non è nient'altro che nebbia d'avvezione che si va a formare quando una massa d'aria molto calda e carica di umidità scorre sulla superficie del mare molto fredda e non fa altro che il vapore acqueo condensarsi e formare appunto questa nebbia d'avvezione che si potrebbe chiamare che si chiama anche nebbia di mare può salire fino si eleva fino a 300 metri fino ad una lunghezza di 8 km ricoprendo quasi tutto lo stretto successivamente la conformazione fisica della Sicilia orientale ha un orientamento della costa che si protrae dal quadrante sud-ovest verso nord-est in maniera obliqua possiamo trovare appunto eventi provenienti dal settore sud-est rispettivamente Mezzogiorno e Scirocco che quando andranno a rimbalzare sulla costa obliqua verranno resi falsati appunto dall'obliquità appunto dalla costa rilevando un vento che non sarà più proveniente dal settore sud-sud-est ma da sud-ovest quindi il beccio infatti grazie ai grafici dei venti medi del trentennio trovati appunto l'attrante climatico 1971-2000 vediamo che il settore sud-est non viene praticamente visualizzato in alcun grafico tuttavia possiamo trovare anche altri venti provenienti da altri settori quale nord-est ed est rispettivamente grecale e levante ma come ben sappiamo lo stretto di Messina è protetto la fascia in questo caso est quindi a destra dalla catena montuosa calabrese soprattutto dalla spromonte quindi sarebbe impensabile avere questi venti provenienti da questi settori tuttavia però vengono visualizzati nell'atlante climatico nei grafici dell'atlante climatico come settore di nord-est soprattutto nelle ore più calde della giornata come le 12 e le 18 tra l'altro nel periodo estivo quindi si tratta non più di gradiente barico ovvero diversa pressione terrestre ma di venti innescati dalla brezza marina successivamente ho analizzato le temperature del cinquantennio dividendo il trentennio con l'atlante climatico del 1971 e l'anno 2000 e del ventennio 2001-2020 troviamo le temperature per quanto riguarda il trentennio che oscillano dai 12 gradi e 2 ai 27 gradi e 3 a differenza del ventennio che oscillano da 9 gradi e 6 a 31 gradi e 6 di agosto quindi si deduce che il mese più caldo per entrambi le serie storiche è agosto e il mese più freddo è febbraio entrando nello specifico troviamo una temperatura massima per quanto riguarda il trentennio registrata a luglio ed è di 43 gradi e 6 diversamente nel ventennio è stata registrata una temperatura più bassa di 40 gradi e 6 anche questa nel periodo di luglio a differenza della temperatura minima registrata nel trentennio nel marzo di un grado e 8 viceversa nel ventennio di un grado e 2 registrata a febbraio confrontando le due serie storiche delle temperature massime e medie possiamo notare come il ventennio nel ventennio c'è stato appunto un aumento di temperatura questo appunto aumento si rende noto anche soprattutto nel periodo primaverile nel mese di aprile con circa un grado e 6 di aumento la stessa cosa ho fatto con le precipitazioni medie sia di tutto il cinquantennio dividendo trentennio e ventennio avendo così una temperatura massima una precipitazione massima del trentennio nel periodo di novembre con 119 millimetri diversamente nel periodo del ventennio abbiamo una precipitazione di 129 millimetri nel mese di dicembre confrontando le due serie storiche 1971-2000 e 2001-2020 possiamo dire che i millimetri di precipitazioni cumulati nell'ultimo ventennio sono stati sono aumentati rispetto alla serie storica precedente del trentennio soprattutto hanno superato di tre volte il valore di giugno del mese di giugno arrivando quindi a 40 millimetri e mezzo in conclusione possiamo dire che grazie al rilevamento continuo dei dati che ci ha consentito di effettuare il confronto tra le due serie storiche possiamo inoltre capire se ci sono stati dei cambiamenti climatici in atto o comunque se ci saranno ringrazio in particolare il professore Pasquale Castagno nonché il mio relatore e il luogo tenente dell'Aeronautica Militare Renato Cancegliere per tutti i dati forniti grazie mille grazie per l'interessante presentazione ci sono domande da parte della commissione se non ci sono domande passerei all'ultimo candidato Napoli Salvatore che presenta una tesi dal titolo cicloni tropicali extratropicali e medicane relatore sempre il professore Castagno Pasquale lascio a lui la parola per una breve introduzione allora in questo caso invece il candidato si è occupato di studiare i principali sistemi di bassa pressione che sono fondamentali per la ridistribuzione del calore sul pianeta terno e quindi servono sono molto utili per regolare il clima della terra stessa e però possono anche causare gravi danni per le società umane lascio la parola a Salvatore per darci idea di quali sono qual è l'importanza di questi fenomeni soprattutto visto che per il futuro è stato previsto che ci sia un aumento dell'intensità di questi fenomeni tra il 2 e l'11% entro il 2100 e 100 quindi lascio la parola a Salvatore grazie mille professore per la presentazione come detto lo scopo principale di questa tesi è quello di illustrare e rendere noti molti aspetti fondamentali che caratterizzano la formazione e le attività di ciclone tropicali extratropicali e medica però in primo luogo bisogna chiarire in maniera sintetica che cos'è un ciclone visto che molto spesso ne sentiamo parlare i cicloni sono dei sistemi di bassa pressione associati a fenomeni meteorologici come piogge venti e temporali caratterizzati da un moto rotatorio anti-orario nell'emisfero boreale e orario nell'emisfero australe sono quindi delle aree atmosferiche in cui la pressione è minore circa il 10-15% rispetto all'atmosfera circostante alle medesime altitudini e possiamo distinguere principalmente due classi di cicloni quelli tropicali e quelli extratropicali riguardo quelli tropicali vengono definiti tali in quanto si formano nella fascia tropicale del nostro pianeta ovvero entro i 20 gradi di latitudine nord e sud e i fattori principali per la loro formazione sono l'instabilità atmosferica la temperatura superficiale del mare che grazie all'evaporazione formerà delle nubi in quota e la forza di Corioli che è una forza apparente che devia le masse d'aria verso destra nell'emisfero boreale e verso sinistra nell'emisfero australe grazie all'usilio di questi tre fattori avremo così la formazione di una struttura ciclonica ben definita in cui possiamo distinguere una copertura cirri densa formata dai moti convettivi risalenti lungo l'high wall che è letteralmente il muro dell'occhio e non è altro che come possiamo vedere in figura un muro di nubi formato da moti convettivi che circonda l'occhio e infine l'occhio che è il centro di rotazione del ciclone caratterizzato principalmente da atmosfera stabile aria calda e assenza di nubi questo grazie a un fenomeno come mostrato qui come schematizzato chiamato subsidenza ovvero la discesa di aria secca è molto densa che a causa dell'aumento di pressione e quindi un successivo aumento di temperatura causerà l'evaporazione di eventuali nubi negli strati più bassi dell'atmosfera riguardo il periodo della loro formazione essi trovano maggiore libertà di formazione principalmente nei mesi successivi all'estate infatti il grafico mostra evidenziato i mesi da agosto a ottobre questo grazie alla capacità dell'oceano di accumulare grandi quantità di calore e quindi di mantenere la temperatura superficiale superiore a quella dell'atmosfera sovrastante un parametro molto importante che caratterizza la classificazione invece di questi fenomeni è l'intensità del vento che grazie alla scala Saffir-Simson noi possiamo vedere come questo parametro cresce gradualmente e ci permette di collocare un determinato fenomeno ciclonico a una precisa categoria altri cicloni come detto in precedenza sono i cicloni extratropicali che si formano nelle fasce temperate del nostro pianeta ovvero entro i 30 e i 60 gradi di latitudine e sono causati e sono formati dalle oscillazioni di flussi d'aria molto intensi conosciuti come jet stream identificati da questo flusso giallastro in cui al suolo si formerà una zona di bassa pressione in corrispondenza del ramo di risalita di questo flusso e oltre al fenomeno ciclonico potranno essere la formazione anche di fronti meteorologici che andranno a convergere nel centro di bassa pressione portando l'occlusione di questi due fronti e quindi una dissipazione di energia e la fine di vita di questi cicloni extratropicali mentre un altro meccanismo di formazione di tali eventi è la transizione extratropicale ovvero il passaggio dell'alimentazione di un ciclone tropicale da nucleo caldo a nucleo freddo mediante la connessione tra fronti vicini infine l'ultimo fenomeno ciclonico sono i mediterranean hurricane meglio conosciuti con l'abbrevazione di medicaine sono dei cicloni simili a quelli tropicali infatti vengono conosciuti anche come tropical like cyclone che si formano in via del tutto eccezionale nel bacino del mediterraneo proprio grazie ad alcune caratteristiche fisiche di questo bacino tra cui la conformazione a bacino semi chiuso e bilancio negativo che rende lo strutture di bioterra l'unico punto di afflusso di acqua oceanica nel bacino la presenza di catene montuose trasversali e flussi polari che rende il clima non eccessivamente rigido e il processo di flushing time che non è altro che il rinnovo di acqua mediterranea dallo stretto di gibilterra che dura circa 70 anni durante gli anni poi sono effettuati degli studi che hanno permesso di osservare delle caratteristiche di formazione che rendono questi medicaine unici appunto e sono anche qua depressione in alta quota temperatura superficiale del mare getti in quota e interazioni con sistemi frontali ma la maggior parte di questi medicaine hanno origine extratropicale dovuto alla loro formazione tramite transizione tropicale che non è altro che il passaggio dell'alimentazione di un ciclone extratropicale da nucleo freddo a rilascio del calore latente da parte del mediterraneo anche questi cicloni vengono classificati secondo la scala di Sapphire Simpson ma la loro categoria non supera la numero 3 grazie appunto alle caratteristiche fisiche del mediterraneo che non permette l'intensificare eccessivo di tali fenomeni anche questi medicaine come alcuni cicloni tropicali trovano il loro periodo di formazione principalmente nei mesi successivi all'estate e anche invernali infatti il grafico mostra come a settembre novembre gennaio si hanno delle frequenze di formazione molto più elevate in particolare nella zona del marionio come mostra la maconfigura non perché il marionio sia il mare più caldo del mediterraneo ma perché il mare più esteso e quindi questo permette una corretta formazione e un'iniziale alimentazione di questi fenomeni la necessità di prevedere e di osservare questi fenomeni atmosferici ha portato alla realizzazione di alcuni modelli numerici di analisi meteorologica quali modello VRF e modelli accoppiato COAST che permettono e forniscono dei dati accurati riguardo alle caratteristiche ambientali di questi fenomeni così da poterli studiare e continuare soprattutto a studiarli infatti in conclusione possiamo dire che è molto importante la natura di questi eventi ciclonici per poter sviluppare delle metodologie atti appunto a ridurne le conseguenze infatti il miglioramento della conoscenza di questi fenomeni dovrà andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico proprio per garantire la prevenzione da danni causati da questi fenomeni come possiamo vedere in figura causati a zone costiere e soprattutto alle popolazioni che vivono grazie per l'attenzione complimenti per l'interessante presentazione ci sono domande da parte della commissione e allora se non ci sono domande da parte della commissione a questo punto noi interrompiamo la seduta perché come commissione ci riuniremo per definire la votazione finale e ci vedremo sempre su questa classe tra una decina di minuti va bene giuseppe martello ok partecipiamo all'altra abbandoniamo qui e partecipiamo all'altra non so se conviene abbandonare l'altra volta non abbiamo abbandonato abbiamo siamo andati direttamente sull'altra la potete lasciare in attesa in ogni caso anche se doveste abbandonare per sbaglio vi richiamerà poi giuseppe di qua nuovamente in ogni caso abbiamo grazie a tutti